Ecco l'intervista che Ron ci ha gentilmente concesso. Come mai secondo te le canzoni dei tuoi tempi sono ancora ricordate mentre le canzoni di adesso sono praticamente usa e getta? Sei durissimo, eh? Ma non lo so, a parte che non è proprio così, insomma, diciamo che i tempi allora erano molto diversi e c'era molta attenzione alle canzoni. Adesso diciamo che, insomma, è tutto un po' più leggero e non si fa molta attenzione ai testi, non, voglio dire, è molto importante l'immagine, la faccia, se sei bello, se sei brutto, se sei qui, se sei là. Insomma, la motivazione di questo lavoro era completamente diversa anni fa, insomma. Allora si facevano i dischi perché ti divertivi a cantare, a far sentire una cosa che avevi scritto e l'emozione, vorrei trasmettere l'emozione che avevi in quel momento. Adesso, insomma, è tutto abbastanza, voglio dire, standardizzato, è tutto quanto in mano alle radio, e tutto quanto in mano a, così, a un'organizzazione di case discografiche che hanno i loro agganci con le radio, per cui, insomma, non c'è più la ricerca della canzone, c'è la ricerca del successo, è diverso. Il tuo progetto che stai portando avanti con queste canzoni è per la SLA, mi pare, no? Sì, 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 è per la ricerca, per la ricerca, per questa malattia che purtroppo non ha ancora nessun aiuto, insomma, nel senso che la ricerca purtroppo non ha ancora trovato nulla che possa almeno bloccarla. Siamo tutti speranzosi e per questo abbiamo fatto questo disco, perché dobbiamo raccogliere fondi per fare in modo che, insomma, che arrivino danari alla ricerca, che è una cosa importantissima. Un saluto al pubblico che non ha potuto assistere al tuo concerto? Beh, devo dire che è stato un pubblico carinissimo, veramente è venuto con grande desiderio di venire, insomma, poi hanno fatto una bella scarpinata, forse ci sono abituati, io non riuscirei a farlo neanche per Paul McCartney, però, ecco, li ringrazio tantissimo, perché è un atto veramente, è un atto d'amore, è un atto di amicizia, è un atto di stima, per cui non posso fare altro che ringraziarli e sperare di vederli in un'altra occasione. Grazie.